ciao a tutti e a tutte e benvenuti siamo qui collegati dalla galleria espositiva della biblioteca civica di brugherio e abbiamo il piacere di ospitare per il quindicesimo anno consecutivo la mostra delle immagini della fantasia una mostra di illustrazione che nasce prende vita ogni anno a sarmede che cos'è sarmede ma i bambini di brugherio lo sapranno sicuramente perché ogni anno abbiamo potuto raccontarglielo comunque sarmede è un paese piccolino di 3.000 abitanti circa nelle colline del veneto dove esiste una casa che si chiama la casa della fantasia e pensate che il paese stesso è stato intitolato il paese della fiaba proprio perché è lì che prende vita questa mostra molti illustratori inviano le loro opere che vengono poi organizzate in base a un tema un filo conduttore e poi iniziano a girare per l'italia e arrivano anche a brugherio e noi li abbiamo qui adesso e la mostra è divisa in due parti una parte che si intitola le selve domestiche l'altra buscare nel bosco e se continuate a seguire questo percorso e a cliccare sul bottone previsto per i bambini potrete vedere le opere che sono esposte buon divertimento